Ciao amici di Evriai, sono Alessandro e sono qua oggi per parlarvi di GeForce Experience, il software di Nvidia pensato per la configurazione automatica delle impostazioni grafiche nei giochi PC. Un software che, tra le altre cose, permette anche di effettuare del video capture dei vostri giochi preferiti in maniera semplice e veloce come non lo è mai stato su piattaforma PC. Molto di voi già conoscerà il software in questione, è stato rilasciato circa un mese e mezzo fa, fino a ottobre, presentato in occasione di un evento Nvidia che ha visto, tra le altre cose, anche del nuovo hardware, del nuovo software, alcuni di essi li abbiamo già visti nel corso di queste ultime settimane, come la scheda 780 Ti recentemente rilasciata, altri avremo modo di vederli più da vicino nel corso dei prossimi mesi. Noi ci apprezziamo a fare questo video solamente adesso, insomma qualche settimana di distanza dalla prima release, ma in occasione di un importante aggiornamento, di un importante update, infatti qualche ora fa è stata rilasciata la versione 1.8.1, che vede l'aggiunta di interessantissime funzionalità che vanno sostanzialmente a completare l'offerta. Quindi ora più che mai vale la pena fare un video illustrativo che possa farvi vedere le potenzialità non solo del software, ma anche dell'hardware, visto che si parla di un programma che funziona in parallelo con un hardware di Nvidia, quindi con una scheda video della famiglia 600-700, quindi con l'architettura Kepler e quindi è in grado di far rendere il massimo il vostro hardware. Quindi un paio di precisazioni prima di iniziare, un paio di accenni sul quale stiamo asestando, come potete vedere dalle schermate si parla di un processore Intel i7 3770K con CPU a 3.5GHz che in boost va a 3.9, 16GB di RAM e una scheda video un po' particolare, una scheda video 760GTX by Asus, la Mars per esattezza, quindi una scheda particolare perché su un'unica piastra monta due GPU, una dual GPU, una delle poche sul mercato. Una scheda interessante che poi in realtà avremo modo di vedere meglio in articoli e in video dedicati. Quindi passiamo direttamente all'interfaccia GeForce Experience, così che possa farvi vedere le funzionalità precise. Una volta avviato il software si apre sulla schermata giochi, come potete vedere in questo esatto istante. Grazie a questa schermata possiamo ottimizzare con pochi semplici clicchi del mouse i titoli installati sul nostro disco fisso per quello che è il sistema hardware in utilizzo. La schermata, come potete vedere, è veramente semplice, non richiede particolari introduzioni, non richiede istruzioni specifiche o tutorial per essere utilizzate. È veramente qualcosa di semplicissimo da capire. Sulla sinistra troviamo l'elenco dei giochi installati sul disco rigido. In questo caso sono una dozzina di titoli, tra cui oltretutto alcuni titoli, alcuni giochi importanti degli ultimi mesi, Battlefield 4, quello di T.Goss, Arma 3 piuttosto che Batman Arkham Origins. Nella parte centrale invece si trovano tutte le informazioni relative al gioco selezionato. In questo caso c'è appunto Arma 3, che è il primo della lista. Troviamo le impostazioni grafiche che si possono anche selezionare all'interno del gioco. In realtà in questo caso sono semplicemente riassunte perché poi il software GeForce Experience farà tutto automaticamente. e appunto i settaggi correnti per il titolo di Bohemia Interactive. Questa icona, questa immagine identifica come un titolo già ottimizzato, quindi con già le impostazioni settate per quello che è l'hardware in utilizzo. E qua in basso invece troviamo un interessante feature pensata per gli utenti neofiti e per i nuovi utenti PC, per quelli che magari l'hanno approcciato da poco e che ancora non sanno bene come muoversi in tale ambito. Qua troviamo degli screenshot in alta definizione che con delle icone e delle relative didascalie ci mostrano le varie feature Nvidia e quindi tutti i vari filtri e impostazioni che possiamo attivare o modificare per rendere il gioco più o meno bello graficamente adatto appunto a quella che è la nostra impostazione. In realtà è semplicemente un riassunto visto che il software GeForce Experience farà tutto automaticamente senza che noi interveniamo manualmente per nulla. Questo ovviamente è semplicemente un esempio su Arma 3, oltretutto ci sono anche altre immagini estrapolate e prese da momenti salienti comunque del gioco ma possiamo anche andare a vedere quelli per esempio su Battlefield 4 che parla della lenti a liasing, piuttosto che all'occasione ambientale, tutti i filtri più importanti e di rilievo. Qui ci sono delle icone di servizio, ma è un software veramente semplicissimo da utilizzare, questo è per l'ottimizzazione. A seguire troviamo delle schede di servizio, la prima che vediamo appunto qua in questo momento ci aggiornano sulla situazione driver in questo caso informandoci che i driver GeForce sono attualmente aggiornati agli ultimi disponibili, che è stato effettuato un controllo in data odierna e quindi ci illustra i principali punti della versione Atomade installata che è la R3.3.1, gli ultimi beta disponibili in realtà poi possiamo anche eventualmente andare a controllare il changelog completo dei driver è possibile anche reinstallare, insomma da questa schermata ci viene fatto un quadro completo di quelli che sono i driver, gli Atomade installati in uso. Sotto attrezzatura personale troviamo invece un quadro completo e generico dell'hardware in utilizzo e quindi dell'hardware che utilizziamo per giocare e sul quale si baserà GeForce Experience per fare i calcoli e ottimizzare quindi i giochi. Qua invece ci sono dei piccoli pannelli che ci confermano che il nostro sistema è pronto e soddisfa i requisiti di sistema per l'ottimizzazione di videogame piuttosto che le altre varie funzionalità di GeForce Experience. Sotto preferenze invece troviamo delle generiche opzioni per quanto riguarda la lingua, i giochi supportati, l'ultimo controllo, le posizioni anche nei quali abbiamo installato i vari titoli sul nostro PC. Ma passiamo al pezzo forte e quindi parliamo un pochettino di Shadow Play per il quale dobbiamo cliccare su questo pulsante. Non appena clicchiamo sul tasto Shadow Play ci si apre questa piccola finestra grazie alla quale potremo andare a modificare gran parte dei parametri di registrazione dello streaming. Innanzitutto con questo piccolo interruttore possiamo attivare o disattivare il software, la feature a seconda dell'evenienza, a seconda dell'utilizzo che stiamo facendo di GeForce Experience. Con questi quattro altri pulsanti possiamo invece modificare la qualità e il tipo di registrazione che stiamo facendo in base alle nostre esigenze. Con modalità possiamo selezionare registrazione immagine manuale, immagine automatica che salva i 5 minuti di registrazione, gli ultimi 5 minuti. E infine una feature introdotta con l'ultima versione 1.8.1, la possibilità di mettere i contenuti direttamente in streaming tramite il popolare servizio, già però appunto in utilizzo con le console di nuova generazione. Con audio invece possiamo semplicemente selezionare se disattivare la registrazione audio, ottenere il semplice audio di gameplay e eventualmente aggiungere il microfono qualora volessimo fare un commentary in maniera diretta. Questi due pulsanti sono invece direi i più importanti, visto che ci permettono di selezionare la qualità di registrazione, ci sono tre preset in realtà ridotta, media e elevata, e la durata di registrazione, quindi la durata dei singoli file e ovviamente la grandezza, il peso in gigabyte. In questo momento state vedendo appunto che la configurazione prevede file a 5 minuti in qualità elevata che pesano 1.9 gigabyte l'uno. Vedete che se andiamo a modificare la qualità in media, i 5 minuti di file si trasformano in 825 megabyte di spazio su disco. Qualora andassimo a modificare e puntare su una qualità ridotta, addirittura andremo a 568 megabyte. Ricordiamo che comunque si parla di una registrazione a 1080p, o meglio con risoluzione nativa del gioco che stiamo utilizzando, con 60 frame al secondo utilizzando il codec H.264 che è uno dei migliori attualmente disponibili, che è un ottimo compromesso tra qualità e spazio occupato dei file. Possiamo appunto modificare, io generalmente utilizzo una qualità media che è già comunque di alto livello, con effettivamente dei file da 5 minuti anche per comodità, ma volendo possiamo appunto, vedete, aumentare a 12 minuti, o addirittura arrivare fino a 20 minuti con dei pesi complessivi di 3.3 gigabyte. E' veramente ottimo, perché il software non si limita a creare dei file molto leggeri. Io vorrei ricordare che Fraps fa dei filmati che con una risoluzione di 1080px720, con una risoluzione molto inferiore, crea dei file che per 6 minuti circa di girato occupano ben 4 gigabyte. Quindi diciamo che l'ottimizzazione dei file finito è veramente eccellente. Ma non è tutto, perché il grande pregio del software di Nvidia è proprio quello di non influire negativamente sulle prestazioni dei giochi e sulla fluidità degli stessi. Se tutto questo non fosse stato abbastanza per convincervi alla genuinità del software di Nvidia, vi diciamo subito che la versione 1.8.1 dispone di ulteriori nuove feature e funzionalità, che possiamo vedere nel pannello delle preferenze relativo a Shadowplay. Qui c'è ancora appunto qualche cosa che possiamo configurare, tra cui la telecamera, la possibilità di utilizzare una webcam per filmare noi che giochiamo, per filmarci e inserirci all'interno dell'immagine di gameplay. Qui possiamo vedere che è possibile configurare la dimensione della finestrella con la nostra faccia. Io purtroppo non ho a momento attaccata una telecamera, quindi non ho possibilità di farvi vedere all'atto pratico come funziona. e ovviamente selezionare anche l'angolo nel quale vogliamo comparire. E infine, in ultimo, l'indicatore di stato, che è un piccolo indicatore che ci permette di capire quando il software è attivo, quando sta registrando o quando è passivo, quindi non sta facendo nulla. Infine, la possibilità ovviamente di selezionare i tassi di scelta rapida e il path di registrazione dei video, quindi di salvataggio dei filmati gameplay. Con questo direi che è tutto, ma non lasciateci subito, perché a seguire ci sono un paio di esempi di registrazione con Shadowplay, quindi potrete vedere in azione le capacità del software di Nvidia. Restate con noi. Ciao! Andiamo, Marine, andiamo! Ordini del capitano, Ayrish. Oh, dove pensi di andare? Mi sono offerta. Ti sei offerta, ma chi l'ha provato? Il capitano Garrison, parlane con lui. Tu lo sapevi? Andiamo, andiamo! Vi trovi invece! Suato nemico! Ma riparo, trovate un riparo! Non ritieni! Mi scuardo! Stai pensando! Stai pensando! La prima volta che hai visto a Sally... Cosa? Si è stata presa da te, non è? Ma come sai questo? Si è stata presa, sull'interno di SirPrize. Tu stai giocando le table... Si è riuscita. E? Un amico di mio amico, Sullivan, dice che hanno trovato lei in le docks. Tu vedete il corpo? E noi... Ehi! Qui non c'è niente da mangiare, bello. Torniamo indietro e ti diamo un po' di pappa. 6-1, situazione? Solo un animale, tutto tranquillo. Ok. Ci spostiamo al punto Silver, ricevuto. Arriviamo. Grazie a tutti. Machine gunner, 200 metri, right up ahead. Moves 75 metri, front. Lopin, engage that machine gunner, west. Engage me, rifleman, 20 metri. Bravo to hell.